La candidatura di Giorgio Giannella arriva proprio nel giorno della scadenza della presentazione delle liste, il 25 aprile. Perché ha deciso di candidarsi? Per un deficit di democrazia e di rappresentanza, in generale nel paese ma anche nella nostra città. Ci sono state tante candidature molto autoreferenziali e per quello che riguarda la maggioranza, ormai così statica, solida, di queste giunte edilizie che hanno aumentato il cemento e inaugurato opere inutili per lo sviluppo della città. Per quello che riguarda un'opposizione è così inesistente, è così frammentata, che non è stata in grado di coniugare un progetto comune per il comune, per la città. Qual è il suo programma elettorale? Il programma è semplice, un modo nuovo di concepire la partecipazione nel comune e quindi trovare delle forme di rappresentanza partecipativa e di democrazia partecipativa. Questo lo si fa liberando quelle che già sono le forze che questa città ha, quindi tutte quante le associazioni culturali, economiche e non in cartelloni come la Stu ci ha insegnato che non servono a niente per costruire una pianificazione anche di opere pubbliche. Ritrovare e cercare una identità e un'idea di sviluppo di questa città che noi individuiamo nell'università sostanzialmente, quindi riportare in un bene pubblico come il manicomio l'Ateneo. Ci dicono di essere eccessivi, però si dimenticano forse di essere stati così eccessivi da sventrare piazze per fare parcheggi come sventrare colline sempre per l'ospedale e fare questi mausolei di cemento, quando invece noi riteniamo per una volta di mettere all'interno della città un dibattito politico e pubblico su come pensare lo sviluppo di questa città, quindi iniziare a vivere se stessa sempre e non solamente destinata ai quattro imprenditori che poi ovviamente gestiscono il bene pubblico.